la luna nera la luna nera via dalle palle tu da fare un bel video oggi allora torno a parlare di sport dai voglio essere un po allegro stasera perché il clima è un clima di merda e farò un video così allora inizio questo video indicandovi una data 18 febbraio 2020 voi mi starete dicendo perché vi indico questa data è esattamente la data in cui ho fatto il video delle partite di andata borussia paris saint germain atletico liverpool e adesso io ora vi indico non ha fatto molte visualizzazioni quel video devo dire la verità ne ha fatte poche voi sapete il mio un canale molto piccolo in crescita c'erano quattro like e un dislike e a quel dislike che mi che mi rivolgo perché i miei nemici tra virgolette nemici piace affrontarli uno per uno allora sarò monotono sarò così sarò cosa ma io devo sempre citare il grande fabio bergomi qual è il motto di fabio bergomi su che lo sapete sto parlando di dell'una e dell'altra partita ma soprattutto di liverpool atletico madrid qual è il motto di fabio bergomi qual è il motto di fabio bergomi ve lo avevo detto vi avevo detto che il liverpool andava fuori ve l'avevo detto ve l'avevo detto ma perché è così perché chi segue il calcio internazionale un'idea se la fa sono un indovido con questo no che non lo sono vi dirò di più nei 90 minuti se il liverpool faceva quattro gol non aveva rubato niente traverse gol mancati il liverpool meritava ma ma l'atletico non ha rubato nulla l'atletico perché non ha rubato nulla perché l'atletico è una squadra che se non lo uccidi subito ti può inculare quando e come vuole io ve lo dissi ragazzi io ve lo dissi la 1 a 0 finita la gara d'andata il liverpool rischia molto grosso come tra parentesi se non si dà la svegliata rischia la juve con lione tra parentesi anche se sono due partite molto diverse io ve lo dissi che il liverpool tutti a dire le ha vinte tutte le ha vinte tutte liverpool squadra più forte del mondo no il liverpool non è la squadra più forte del mondo e vi spiegai anche il perché vi spiegai il liverpool non è affatto la squadra più forte del mondo e ve lo spiegai cosa vi dissi il liverpool gran gioco ma gioca gioca come gioca un calcio tipico all'inglese del liverpool dei keegan dei neil dei kennedy dei rush dei dolglish gioca come il liverpool di 40 anni fa palla le due fasce che spingono palle al centro mischia continua e gioca un calcio inglese stile anni 70 il calcio ideale che gasa l'atletico di simeone ecco perché ve l'avevo detto occhio poi ma a voi vi rimasta negli occhi il 4 a 0 al barcellona ma io ve lo dissi in quel video del 18 febbraio ve lo ripeto adesso se liverpool barcellona dello scorso anno la rigiochi 50 volte il barcellona non li prende mai quattro gol mai mai li prende quattro gol perché e vi spieghi vi spiegai anche perché il barcellona prese quattro gol perché il barcellona è una squadra che nella sua storia ogni tanto le prende quelle sbandate come l'ha presa con la juventus come l'ha presa con la roma come l'ha presa il lo tempo in finale di cempio dal barcellona dal milan di capello senza bari secco sta curta quattro gol il barcellona è la tipica squadra che le prende quelle imbarcate ogni tanto l'atletico no chiaramente siamo parli di una squadra molto più debole del barcellona l'atletico no l'atletico non glieli dai due gol di scarto non glieli dai anche se in giornata sorta con un attacco molto leggero come quello di oggi soprattutto dopo la sostituzione di diego costa l'atletico è una squadra che sa soffrire è una squadra che se non l'ammazzi subito non l'ammazzi più è la squadra classica squadra italiana di fine anni 70 nella fattispecie ricorda la juventus i trapattoni che vinse la coppa uefa bilbao l'atletico madrid è uguale quella juve forse era più forte come uomini ma come gioco e come capacità di resistenza quella è uguale a quella juventus è uguale sputata è uguale sputata stesso modulo di gioco stessa capacità di chiudersi stessa letalità in contropiede avete visto il gol di morata e poi c'è da dire un'altra cosa c'è da dire un'altra cosa che disse nell'altro video la difesa del liverpool fa cagare fa cagare van dijk è un sopravvalutato un ottimo giocatore ma è un sopravvalutato perché van dijk davanti a sé le linee strette è imbattibile ma preso di infilata van dijk è un centrale normalissimo non è non è un brocco sia chiaro ma non è neanche franco baresi non è neanche alessandro onesta non è neanche che so puyol non è neanche sergio ramos che io reputo ancora più forte nonostante tutto sergio ramos è ancora più forte di van dijk perché un contro è avere due linee è un contro giocare in una squadra sembra l'attacco con due linee belle strette e allora tu devi solo smistare la palla addirittura vai a fare gol sui calci d'angoli un altro contro è giocare in una squadra come real madrid dove fai tanti gol ma dove lasci molto all'avversario ok e quante volte è stato salvato il culo da sergio ramos in real madrid chi è più decisivo tra i due van dijk o sergio ramos la risposta penso che me la state dando voi ok i due gol i due gol il primo una gran cagata del portiere il due gol di llorente una gran cagata del portiere vedi come sono le spagnole l'atletico fino ad allora non aveva mai tirato in porta cazzata del portiere recupera la palla recupera la palla marco si orente i due centrali chiudono male gli orente fa gol ecco il secondo gol ancora peggio ancora peggio un'azione quasi morta quasi morta però e qui c'è mia moglie che mi ha testimone questo è il due a due dell'atletico l'ho detto che morata aveva appena passato la linea di centrocamp occhio che questo è il due a due dell'atletico perché ho visto la difesa del liverpool messa malissimo non solo in due sono fatti fuggire marco si orente uno dei due era van dijk do you remember non solo ma se poco a poco si fosse inserito il laterale sinistro era solo davanti al portiere perché c'era una voragine sul lato sinistro la difesa del liverpool fa cagare fa cagare vi ricordo che il napoli il napoli se mertenson si addolmenta sul calcio d'angolo ma vince ad anfield ad anfield va a vincere ok e non è che il napoli corse così tanti pericoli in quella partita lì perché il napoli il napoli ora con cancellotti ancora di più adesso con gattuso il napoli non ha più quel gioco che aveva con sare il napoli adesso gioca in un modo molto simile all'atletico madrid gioca in un modo molto simile con l'atletico madrid specialmente da quando è fuori culibali ecco è questa la mia rivincita personale con quel dislike o chissà quanti non hanno messo il dislike ma l'hanno preso per pazzo quando dicevo che ragazzi guardate qua passa l'atletico se il liverpool passa passa i rigori perché mai al mondo il liverpool da due gol di distacco all'atletico madrid ha avuto fortuna l'atletico pienamente d'accordo ma ma si era portato anche sul 2 a 0 il liverpool ma che succede che succede tutti a festeggiare distrazione ecco pam l'atletico ti fa la siringa io lo disse occhio in sede di sorteggio il liverpool è favorito disse in sede di sorteggio ma ma se non fa gol al vanda metropolitano la cosa si complica l'ho detto in sede di sorteggio l'ho detto dopo la gara d'andata e lo dico ora dopo la gara di ritorno devo ripetere cosa dice fabio bergomi ve l'avevo detto come ve l'avevo detto che fa borussia paris san germain passava il paris san germain perché erano due squadre simili due squadre due difese che fanno cagare la differenza l'avevano fatta gli attacchi si ho detto che segnavano entrambe però è stata anche una partita strana porte chiuse cioè io ho visto il primo tempo il borussia non l'ha praticamente mai presa neymar bernat il paris san germain avanti a più colpi e non solo vi dico questo questo aland che sulla bocca di tutti questo aland non è ne altro che le rete di torre andreflo uguale questo aland in italia fa massimo dieci gol ve lo dico io massimo dieci gol fa questo aland in italia e le rete spiccicato il suo cornazionale torre andreflo che giocava nel celsi che venne a giocare in italia a fine daria nel siena se ben ricordate e rinominando il grande fabio bergomi ve l'avevo detto anche anche sul paris san germain ragazzi oggi un play ora faccio un breve inciso sulle gare di ieri cominciando innanzitutto da quella che non ci ho azzeccato perché io dissi che passava il tottenham invece 1 0 3 0 a casa anche se bisogna dire che il tottenham è una squadra in disfacimento via ericsson cain infortunato delle alli impalpabile murigno oramai nella parabola discendente passa questo lì sia una squadra giovane sì è buon per noi se dovessimo passare sempre se dovessimo passare perché non sarà facile con l'iune non sarà per niente facile sarà una partita l'importante non prendere gol ma non sarà una partita facile ragazzi se si passa per me si passa col 2 a 0 non è una partita facile con l'iune ragazzi assolutamente ci siamo molto complicati la vita l'andata speriamo bene ma c'è da stare molto 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 attenti non è la rimonda dell'anno scorso che troviamo un cristiano ronaldo al massimo occhio che questi verranno a chiudersi a torino a ripartire in contropiede e se gli lasciamo spazi questi sono pericolosi ok tornando all'ipsia tottenham passano se sono l'ipsia una squadra giovane che secondo me sarà molto ambita nel sorteggio dei quarti non penso vada molto oltre ha trovato un tottenham in disarmo ne approfittate ed ha passato il turno valencia atalanta io dopo la gara d'andata se ricorderete se ricorderete se ricordate io dissi occhio che visto come è andata la gara d'andata a valencia rischia al mestaglia rischia avrebbe rischiato al mestaglia con il con 50 mila spettatori nel mestaglia a porte chiuse è fatta l'atalanta è più forte perché l'atalanta è più forte quello che c'era da temere col mestaglia pieno l'atalanta era l'ambiente che lo sapete che in spagna la torcida spagnola da una carica micidiale quando giocano in casa e spesso gli arbitri soffrono in spagna del famoso medio scenico che non è solo roba del nuovo campo del bernabeu anche a seviglia anche a valencia anche alla corugna quando c'era il deportivo anche a bilbao anche in casa della real società giocare in spagna è sempre davanti a 50 mila spagnoli è sempre fastidioso sempre una brutta gatta da pelare si è giocato a porte chiuse amen grande ilicic 4 a 3 atalanta meritatamente ai quarti raga chiudo il video dicendo ancora una volta ve lo avevo detto è il dislike del 18 febbraio non voglio no le scuse non ne voglio è brutto a chiedere scusa a pretenere brutto pretenere le scuse ma riconosci la mia grandezza riconosci la mia competenza raga iscrivetevi al canale e speriamo di tornare presto alla normalità che sto cazzo di virus veramente ci ha sconvolto le vite ciao raga